E' un campione di riferimento, questi giovanissimi ce l'hanno già in campo, Anselmo Robbiati, un ex Viola e adesso direttore generale della Futur Club di questi giovani campioni in erba, vogliamo dire. In campo oggi per parlare anche di comune unico, quindi lo sport che unisce Robbiati? Noi abbiamo già cominciato con il calcio, abbiamo fatto questa fusione importante che vanta più di 300 bambini e quindi vuol dire che il lavoro è stato fatto bene e si sta proseguendo con questa fusione, sperando che ci siano degli ottimi risultati come questa stagione. Noi intanto in campo vediamo il Viola che oggi è dominante, una passione, un ricordo importante per lei questa squadra, questo club. Sì sicuramente, io alla Fiorentina ho fatto dal 93 al 99, sei anni stupendi, bellissimi ricordi, mi sono tolto delle soddisfazioni, quindi il Viola rimane sempre nel cuore e anche ora la seguo molto volentieri. Sta facendo un bel campionato, che cosa possiamo dire di questa Fiorentina, dove arriverà? Speriamo più in alto possibile, i risultati sono ottimi, nessuno si aspettava questa Fiorentina così in alto quest'anno, la società e Montella hanno lavorato benissimo in inizio stagione e sicuramente se continueranno così potranno anche raggiungere obiettivi importanti. E fra questi piccolini c'è qualche Robbiati futuro? La speranza è quella, noi cerchiamo di aiutarli con insegnamenti validi, cercando di farli crescere bene e con la speranza che qualcuno diventi un giocatore importante.